Ha avuto paura che il movimento fosse finito? Ma no, ma no, guardate, con la campagna che forse ci siamo cercati, per l'amor di Dio, ma con la campagna di informazione che avete fatto su di noi, io ho un po' di dubbio, ho detto può darsi che succeda qualcosa, il dubbio mi è venuto. Poi ho visto che in fondo siamo calati dello 0-1, 0-2, allora ho detto qua c'è qualche cosa, è lì che mi sono preoccupato, calare dello 0-1 nonostante tutta questa campagna qua. Allora ho detto ma allora chi è che segue queste robe qua? Guardate che la grande forza oggi è il non fare delle cose, il no, il no, il no, in tutti i sensi, il no, il no è la più alta forma di politica pura di oggi, il no che possiamo dare noi come movimento, il no al referendum e il no che dovete fare e dovete dire voi come persone, come cittadini, il no dentro, il no quando ti promuovono e non te lo meriti, il no quando prendi dei soldi che non ti spettano, il no quando scavalchi qualcuno più bravo di te, questi no dovete tirare fuori voi, noi i nostri no li tiriamo fuori tutti i giorni, per piacere.